creato nel 1996 a Mahagua, provincia di Siego de Avila, esattamente al centro dell'isola di Cuba, dal professore e istruttore Angel Moran Paz, che saluto che è qui dietro le quinte, grande coreografo e direttore artistico. Il vasto repertorio di questo gruppo punta sul folklore, sulle arti e sulle tradizioni popolari. Si va con loro dalle musiche più tradizionali alle tendenze più attuali, più moderne come la salsa. Si va dalle danze campesinas, quindi dei contadini, in Gaga, Congo, al Chachachà, al Mambo, alla salsa, modernissime. Vedrete un balletto, un gruppo composto da 30 elementi, di cui 8 musicisti, che naturalmente accompagnano i balli, però vivono anche di luce propria interpretando le straordinarie musiche cubane. Questo spettacolo sarà diviso in tre quadri, come abbiamo detto prima da dietro le quinte, nel collegamento dietro le quinte. Il primo quadro si chiama Guateke e consiste in musiche e danze di origine contadina. Il secondo quadro si intitola Bilonga, anzi Bilongo. Musiche e danze invece di origine africana, quindi che vengono dalla parte sud dell'Africa come origine. E infine il terzo quadro, che chiuderà alla grande in maniera molto spettacolare e scatenata la serata, si intitola Cubano-Cubano, balli popolari metropolitani. Quindi la salsa, chachachà, il son, il mambo e le congas. Siamo pronti a cominciare? Vorrei accogliere con un grandissimo applauso questa sera il Festival Latinoamericano da Mahagawa Cuba, il Conjunto Folclorico, 20 anniversario. Buon divertimento! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.